mmmm vediamo un attimo vabbè lead da fare schifo Gridilises Attack and Death per 1-1 Super Damage Rovers Death però posto special c'è Gridilises Attack and Death ok Passiva Attack and Death 150 Addition attacco Death e chance per fare un crit più 25 per ogni attacco performare ho un massimo di 50 che deve abilitare add allora Chi più 3 è un addizionario Attack and Death più 100 quando c'è un alleato che si chiama Gon nel team quindi questo va in combo con Gonint qui un addizionario chi più si è performa un crit quando c'è un Android o Future Saga categorie anime un addizionario attacco più 100 quando c'è un nemico che si chiama Cell ok quindi dovrebbe provarlo da Cell sta cosa vabbè molto minimal come kit però boh vediamo quante stazia in realtà ci raggiunge ma secondo me gli hanno dato letteralmente solo il 150 a base e un 50% per ogni attacco performato e poi c'è un addizionario Attack and Death 100 se c'è Gohan non sono chissà che percentuali elevate però per essere un real summon non è che mi aspetto più di tanto anche perchè di solito i real summon quelli stanno a fare di merda allora vediamo un attimo probabilmente se io qui non uso item moriamo subito lì sul Trunks STR però è il best link 312.000 DEF che comunque non è malvagio io qua devo usare per forza doppio item eeeh facciamo così io più atto voglio capire quanto carica contro letteralmente c'ha full c'ha il best buddy eeeh passiva full attiva a parte per il Gohan che però deve essere in nel team Gohan attenzione quindi non per forza deve essere in turno quindi in realtà adesso è il miglior turno che possiamo vedere con sto team in questo momento con la sua full passive attiva meglio di così si sta cosa non può fa' c'è veramente tutto attivo è overbuffato da Fareski cioè è il meglio è Campus ti aspetto ti aspetto eeeh vediamo per me per me stiamo sui 8 barra 10 milioni non lo so butto in dominare ah ragazzi ci ho provato però ricordo che c'ha la passiva che si deve buffare tirando 2 attacchi vedi che sta sugli 8 milioni adesso e infatti l'ho detto io ho calcolato con la passiva attiva e mi sono ricordato adesso che deve tirare 2 attacchi per essere dapparsi al massimo quindi la prossima dovrebbe sta sui 10 milioni ok ci sta come cosa ci sta ci sta allora facciamo così speriamo vabbè lo mettiamo prima così non rischiamo special eeeh Wiss non è più attivo ma non ci frega nulla facciamo in questo momento quando c'ha di link un link attivo vabbè allora a sto punto facciamo così allora 1 2 e 3 va benissimo quanto carica 6 milioni l'ho detto questa è adesso è post star special sarebbe forse dappato quindi adesso con buddy e tutto è il massimo che riesce a caricare però non la vedo molto bene buonasera ragazzi buonasera buonasera eeeh diciamo che non infatti stava sui 7 milioni mi sembra personaggio abbastanza mediocre nulla da dirgli simpatico eh però come sempre ci sono scelte migliori non ha né guardia né DR post special forse i pugni riesce a tankarli forse se ti va bene quindi più di tanto non ti saprei dire vabbè qua dovremmo tankarla un minimo un minimo infatti purtroppo me lo abbiamo shottato eeeh vorrei provare a testarlo con il best buddy tanto me lo shottiamo se no eeeh per vedere con la full passiva attiva ma tanto stiamo sui 10 milioni vediamo è giusto per un attimo capire l'andazzo ma più o meno ho capito com' ma pure questo è tec ma su tutti c'è su tutti tec cazzo inventivo pari a zero ma proprio così eh se mi capita quattro e otto insomma ricordiamo che si sta ancora setupando eh diamogli il beneficio però dovrebbe fa nad sta ladrina diamogli il beneficio del dubbio però l'ho detto comunque full setup sta sui 10 milioni vabbè tu dici va che comunque non è malvagio il problema è che per fare il full setup ti serve quel tranks e settieri che fa vomitare lo devi comunque tenere in turno se lo vuoi far caricare sempre sti danni e nemmeno dici vabbè faccio una turnazione forte dici ok buona fa pure vomitare come turnazione quindi figurati non ho il dubbio allora facciamo così poi metto col tranks in turno il turno dopo abbiamo la best turnazione adesso abbiamo il setup finale spero non prenda troppi danni da selint anche perchè sta rezzo non mi ricordo vabbè ha fatto special qua quindi nemmeno più di tanto un problema va bene buona anima di sto sel vabbè lo sto con post trasformazione mi piace di più pre molto particolare e delimitato diciamo posto te frega il cavolo va bene con basta che non lo sciotti perchè comunque dovrei provare tranks tech grazie 6 e 7 si stiamo sui 10 milioni con lo best buddy starezzo non fa danno a me non frega il danno che fa io devo provare tranks vedi ma sta sugli 8 milioni senza linker diciamo senza il best linker che con in realtà stiamo forse anche sugli 11 milioni eh comunque non so pochi danni non si butta via allora eccoci qua difesa oh quasi mezzo milione di death free special io non lo butterei via non so voi vedete vedete la cosa vabbè come vedete sono tutti i link attivi a me non dispiace poi ripeto post special c'è grid resist death nella 12 nella 2 come se avessi la 18 e vediamo tanto c'è il crit garantito 9 8 vabbè se ti fai un'ata di special sto coso ha un buona def peccato che giustamente avere buona def non vuol dire tancare special o comunque i pugni che non c'è nei guardia nei DR però devo dire che non è malvagio dai pensavo molto peggio ho letto certe cose tipo che sto coso è un abominio contro questi personaggi contro sales cioè contro la sua passiva full attiva contro le limitazioni alt se riesci ad attivarla è buono dai ci sta non è malvagio pensavo molto peggio vabbè vabbè vabbè